Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere un mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Ringrazio lo sponsor di questo video, cioè Gams Go, il portale di condivisione degli account di servizi streaming. Rimanete collegati fino alla fine del video per maggiori informazioni e un codice sconto pensato apposta per voi che seguite la versione di Barley. Oggi parliamo di una serie la cui prima stagione risale al 2019, la cui quarta stagione è uscita da poco su Amazon Prime Video. Non parlerò nello specifico delle singole stagioni, anche perché la quarta non ho neanche cominciato a guardarla, ma cercherò di capire come un progetto sulla carta estremamente valido, anno dopo anno, sia diventato una sorta di parodia di se stesso. Uno dei maggiori problemi di questa serie è il suo materiale originale, cioè un fumetto talmente violento che la sua casa editrice dovette cederlo ad un competitor per evitare una shitstorm colossale. E per quanto vi potrà sembrare violenta la serie, sappiate che il fumetto da quel punto di vista è inarrivabile. Il titolo della serie è The Boys, curata dallo showrunner Eric Kripke, e tratta dall'omonimo fumetto scritto dall'autore britannico Garth Ennis e illustrata da Darick Robertson. C'era un tempo in cui i supereroi erano delle divinità, un tempo in cui bestemmiare i supereroi era l'eccezione, era lo strappo con il mainstream che ci faceva sentire sovversivi. Ma oggi che i supereroi si bestemmiano da soli, noi pubblico come possiamo professare il nostro eretismo? Bestemmiamo insieme dopo la sigla. Premetto che io non bestemmio mai, tranne quando perdo Brawl Stars. E intendo il concetto di bestemmia nel suo assunto più letterale, cioè un'ingiuria riferita ad una divinità. Parto da questo presupposto perché quando è uscita la prima stagione di The Boys, cioè nel 2019, il mondo era all'apice dell'orgasmo Marvel. Eravamo rimasti tutti a bocca spalancata davanti ad Infinity War ed erano usciti Endgame, forse il più grande evento cinematografico collegato ad un fumetto della storia del cinema, e Spider-Man Far From Home. Eravamo nel pieno del nostro cattolicesimo fumettistico, con Marvel e DC che ci inondavano di film più o meno riusciti, tenendoci legati al loro credo e nutriendo la nostra fede nei super. Poi arriva The Boys, ma di cosa parla The Boys? Praticamente The Boys racconta la storia di un gruppo di super chiamati i7, molto simili alla Justice League, con una piccola differenza rispetto a Superman, Batman e soci. I7 sono dei figli di puttana. Ai7 dell'umanità non gliene frega una mazza. Anzi, se la potessero eradicare dal pianeta ne sarebbero ben felici. Ma allora cosa ci stanno a fare sulla Terra? Semplice, i7 sulla Terra fanno business. Gli eroi che compongono il gruppo dei7 infatti sono di proprietà di una multinazionale chiamata Vogt, che ne gestisce l'immagine e le azioni, guadagnando gazzilioni di dollari dal merchandise e da ricchissimi contratti con il governo e con la difesa. A differenza dei nostri santi eroi Marvel e DC, i7 per difendere l'umanità vogliono essere pagati. Nel fumetto i The Boys sono un gruppo di underdogs che odiano tutti i super e che, in un certo senso, li controllano e ne puniscono le azioni attraverso tutti i mezzi possibili, soprattutto la violenza. Nella serie, invece, i The Boys sono un concetto simile. Sono sempre degli underdogs che odiano i super ma vengono assoldati dal governo per scoperchiare il marcio che riguarda i7 e la Vogt perché, fondamentalmente, il governo è stanco dei ricatti della multinazionale. Senza farvi troppi spoiler, la prima stagione di The Boys è uno spasso e tutto al posto giusto. Il cast, la storia, il pacing, anche la gestione della violenza, che non è mai facile in un prodotto comunque mainstream, risulta efficace perché non è mai gratuita. Ma quello che riesce di più nella prima stagione di The Boys è la caratterizzazione dei personaggi, sia buoni che cattivi. Non è difficile immedesimarsi nelle motivazioni di Butcher che odia i super perché uno di loro ha prima sedotto e poi fatto sparire la sua moglie. Così come non è difficile immedesimarsi in Yugi, la cui fidanzata viene spazzata via dall'esistenza da un super chiamato A-Train. Anche se la vera star della prima stagione di The Boys è Homelander, cioè il leader dei sette, un super che, per poteri, è paragonabile a Superman. Vola, è immortale, ha la superforza, spara laser dagli occhi. È praticamente Superman, però psicopatico, narcisista, amorale, con una perversa fissazione nei confronti del latte materno. Homelander è un super a tutti gli effetti, ma ha tutti i difetti dell'essere umano. È l'opposto del da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Il suo motto è il potere genera paura, la paura genera più potere. Il suo sogno, infatti, è quello di scatenarsi e diventare il padrone del mondo. Però non lo fa. Ed è proprio questo il grande problema delle serie successive di The Boys. Più la serie va avanti nella sua seconda e terza stagione, più diventa inverosimile che un essere così potente non mandi l'umanità definitivamente a cagare, non si costruisca un trono di cadaveri e non ci guardi morire dopo averci trasformati in bestiame da allevamento. Il conflitto tra i sette e i boys episodio dopo episodio diventa meno concreto, meno condivisibile e anche la violenza non è più così propedeutica alla storia, ma solo ed esclusivamente a cercare l'effetto Wow! Gli è esploso il cazzo! C'è anche da dire, e forse è proprio questo il problema più grande di The Boys, che dal 2020 i film e le serie dedicate ai supereroi, soprattutto Marvel, hanno perso la loro santità. Sono diventati terreni, pieni di difetti, umani, quindi non più bestemmiabili. E paradossalmente si è creato un ambiguo parallelismo tra le dinamiche raccontate in The Boys e quelle della realtà. Dove nella fiction c'è la Vogue che sfrutta i super fregandosene dell'umanità inseguendo solo il profitto, nella realtà c'è la Disney che sfrutta i super fregandosene del pubblico inseguendo solo ed esclusivamente il profitto. In un contesto così ibrido tra finzione e realtà, The Boys, almeno per me, ha perso di efficacia. Nella seconda e nella terza stagione hanno provato a rialzare la posta infilandoci i nazisti. Vabbè. è quella che io chiamo la mossa della disperazione, cioè la mossa del I am your father. Inserendo un personaggio, cioè Soldier Boy, che poi si scopre essere il padre di Homelander, quindi il nonno del figlio nato dalla moglie di Butcher e bla bla bla. Quando un team creativo non sa più cosa inventarsi, gioca la mossa. I am your father. Altro canto del cigno di questa serie, secondo me, è che adesso sono tutti super. Anche i Boys, che riescono a ottenere i poteri grazie ad una super droga, che però contemporaneamente li uccide, cioè più usi questa droga più muori di tumore. Super cazzole di un certo livello, eh? Il tema forte della prima stagione era l'umanità fallace contro le divinità ancora più fallaci. Ora invece di umano non c'è quasi più nessuno. È solo una battaglia tra psicopatici sotto un super MDMA. Come ho detto all'inizio del video, il fumetto è talmente hardcore che la prima casa editrice che lo pubblicò nel 2006, cioè la Wildstorm, un'etichetta della DC Comics, solo un anno dopo, nel 2007, dovette cedere i diritti di distribuzione del fumetto ad un'altra casa editrice, cioè la Dynamite, per le accuse di eccessiva violenza. Per dirvene una, nella serie Homelander mette incinta la moglie di Butcher con un rapporto consensuale e da questo rapporto nasce un figlio super che noi conosciamo nella serie già preadolescente. Nel fumetto, Homelander violenta la moglie di Butcher che rimane incinta senza nemmeno accorgersene e il feto super una notte sventra la moglie di Butcher iniziando a fluttuare per la stanza e Butcher lo uccide spaccandogli il cranio con una lampada. Ecco, stiamo parlando di questo tipo di violenza. Ovviamente la serie ha dovuto effettuare un grosso lavoro di violence washing perché non puoi portare sullo schermo una roba del genere che nella prima stagione è più che riuscito e in quelle successive secondo me no. È diventato un cartone animato di quelli non particolarmente smart. i set nella genesi del fumetto erano direttamente ricollegabili a personaggi della DC Comics Homelander Superman Queen Maeve Wonder Woman A-Train Flash The Deep Aquaman Noir Batman e come ho detto prima quando questi personaggi erano circondati da un'aurea di santità era divertente guardare la loro versione difettosa fregarsene dell'umanità e sguazzare nell'edonismo ma ora che gli eroi sono davvero morti l'irriverenza di The Boys non è più blasfema verso uno status ma si limita ad essere autoparodistica. Detto questo guarderò la quarta stagione di The Boys sì quando troverò del tempo diciamo che non è in cima alla mia lista prima c'è la terza stagione di The Bear prima di passare alla birra dedicate un minuto della vostra attenzione allo sponsor di questo video quanto costano gli abbonamenti delle piattaforme streaming più famose Netflix 12,99€ al mese Disney Plus 8,99€ Spotify per la musica 10,99€ al mese Paramount Plus 7,99€ Crunchyroll 4,99€ al mese essere abbonati a tutte queste piattaforme contemporaneamente vi costerebbe quasi 46€ al mese sono più di 500€ l'anno e se vi dicessi che è possibile abbonarsi a tutte queste piattaforme spendendo in totale meno di 15€ al mese è possibile grazie a Gams Go il servizio di sharing degli account condivisi abbonarsi è semplicissimo andate sul link in descrizione scegliete la piattaforma a cui iscrivervi e mi raccomando inserite il codice sconto Barley per ottenere un 5% di sconto in più sull'abbonamento Netflix e un 2% di sconto su tutte le altre piattaforme inizia a risparmiare con Gams Go così avrai più soldi da spendere nelle tue birre preferite che birra abbiniamo alla serie The Boys allora ho descritto The Boys come un qualcosa di non particolarmente riuscito forse per un eccesso di contenuti come un pentolone all'interno del quale si è voluta mettere troppa roba e il risultato alla fine è un qualcosa che per alcuni è troppo amaro per alcuni è troppo dolce per alcuni è troppo violento per alcuni è poco violento quindi ho deciso di abbinare una birra che potrebbe avere lo stesso effetto nel senso parte da una genesi nobile cioè il Barley Wine cioè un mosto di birra che viene fatto bollire più a lungo in modo tale che diventi più alcolico al quale è stato aggiunto caffè e lattosio e questa birra si chiama 9 to 5 ed è del birrificio frontal il birrificio landese che di solito fa cose belle vediamo a questo giro se ha creato un mostro tipo The Boys o se è rimasto sul pezzo allora la birra nel bicchiere si presenta esattamente come si deve presentare con un bel colore marrone scuro una schiuma decisamente colorata verso il marrone cosa che mi fa ben sperare e queste sono le tipiche colorazioni dei Barley Wine in più qui c'è il caffè quindi al naso si sente la parte quasi caramellata del cereale che viene fondamentalmente stracotto ha un odore molto simile alla caramella mu per dire si avverte una leggerissima nota di caffè ma non predominante andiamo all'assaggio molto particolare il caffè si avverte nella sua parte più acida aggredisce proprio i lati della lingua in un modo molto intenso però poi la birra alla fine risulta dolcissima forse troppo dolce quindi si direi che questa birra è un po' come The Boys hanno voluto fare troppe cose contemporaneamente e il risultato non è del tutto soddisfacente quindi The Boys arrivato alla sua quarta stagione trovate tutto disponibile su Amazon Prime Video è una visione abbastanza consigliata se non avete proprio niente di meglio da fare The Boys abbinati alla 9 to 5 del birrificio Frontal un barley wine con caffè e lattosio non particolarmente riuscita perché non mischia bene le varie anime di questa birra il caffè si sente eccessivamente nella sua parte acida e il barley wine è troppo dolce per essere considerato un barley wine al top della sua maturità ed è la versione di barley tutto buona visione buona bevuta e non fermatevi alla prima buona visione buona visione buona visione buona visione buona visione buona visione